La plastica come noi la conosciamo nasce nel Tard 800, ma un suo prototipo viene scoperto già tra il 1861 e il 1862 dall'inglese Alexander Parkes. La cosiddetta parkesina è un tipo di celluloide che inizialmente viene utilizzato per semplici scatole, manici, polsini e colletti delle camice. L'invenzione vera e propria della plastica, però, si può attribuire a John Yatt, che così facendo voleva dare il suo contributo per una buona causa. Nell'800, infatti, il gioco del biliardo era molto di moda, ma soltanto tra le classi più abbienti, in quanto il materiale utilizzato per produrre le palle da gioco era lavorio, molto raro e costoso, nonché, ovviamente, dannoso per gli elefanti. Nel 1870, un'azienda americana che produceva biliardi indetto un concorso, 10.000 dollari, a chi avrebbe trovato un materiale alternativo al lavorio. Yatt vinse il concorso, scoprendo la celluloide, un composto a base di cellulosa, ovvero un polimero presente in tutte le piante. Yatt si vantava, dicendo di poter in questo modo eliminare il bisogno di saccheggiare la terra alla ricerca di sostanze che diventano sempre più rare. Oltre a salvare centinaia di elefanti da morte certa, Yatt ha contribuito a rendere il gioco del biliardo più economico e portare uno svago in più tra le classi meno abbienti. Soltanto nel 1900, però, la plastica assume il ruolo di vera protagonista della vita quotidiana, soprattutto quando, nel 1913, viene inventato il cellofan, flessibile e leggero, ideale per gli imballaggi. Negli anni 30, il petrolio diventa la materia prima principale per la creazione della plastica, e sempre in quegli anni entra in scena un altro grande attore, il nylon, con cui erano fatti paracadute dei militari, nonché alcuni componenti degli aerei da guerra. Nel 1941 compare il PET, il più comune materiale che tuttora viene utilizzato per le bottiglie d'acqua e le bibite. Leggero, resistente, trasparente e molto economico, serviva come sostituto ai materiali di origine naturale, che durante la guerra erano rari e costosi. Negli anni 50, esaurito il suo scopo in ambito militare, la plastica fa il suo ingresso definitivo in quello civile e ha fin da subito un grandissimo successo. Nel 1954 Giulio Natta vince il premio Nobel per la chimica per la scoperta del polietilene isotattico, che tre anni dopo sarà prodotto industrialmente e introdotto nel commercio con il noto marchio di Moplem. La diffusione di questo materiale viene spesso associata al boom economico degli anni 60, quando la plastica era ormai ritenuta un materiale insostituibile e fondamentale per la vita quotidiana. In generale, si può dire che l'invenzione della plastica non può essere del tutto demonizzata e con lei nemmeno il povero Giulio Natta. Oltre infatti ad aver ridotto di molto il mercato del lavorio, che nell'Ottocento e i primi anni del Novecento era utilizzato anche per oggetti di uso comune, come pettinini e gingilli, il nylon con cui erano costruiti i paracaduti degli alleati e che ha reso leggeri i caccia con cui volavano, ha contribuito alla loro vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Dagli anni 60 in poi ha reso accessibili alle masse bene di prima necessità, che migliorarono l'igiene pubblica e quindi diminuirono infezioni e malattie. Pensiamo per esempio ai secchi e ai contenitori per detersivi o ai servizi igienici come il WC, quelli più economici sono fatti tuttora di materiale plastico, o ancora i cassonetti e i bidoni della spazzatura. Ma anche alcuni utili strumenti per la casa e per la cucina, che hanno velocizzato le preparazioni, permettendo alle donne di avere più tempo per se stesse, per lavorare e quindi emanciparsi socialmente ed economicamente. I contenitori e le pellicole, inoltre, permettevano di conservare più a lungo i cibi ed evitare gli sprechi. Ma la plastica è una risorsa anche oggi, grazie ai suoi sviluppi più all'avanguardia, i cosiddetti tecnopolimeri. È infatti utilizzata in campo sanitario, in quanto trasparente e resistente alla sterilizzazione. Ha reso possibili viaggi nello spazio, essendo una delle componenti principali dei caschi spaziali. Le lenti a contatto sono fatte di materiale plastico, così come le incubatrici, gli airbag, i caschi per le moto e per gli operai, gli scudi antiproiettile e alcuni componenti del motore delle macchine, essendo i tecnopolimeri anche resistenti al calore. Ha reso quindi più leggeri automobili e europlani, riducendo i consumi di carburante e quindi l'inquinamento. Infine, le bottigliette di plastica hanno permesso a molte popolazioni del terzo mondo di avere accesso all'acqua potabile. Ogni giorno, quindi, la plastica salva vite umane. Se non usata correttamente o nelle giuste quantità, la plastica può portare con sé anche conseguenze negative e talvolta irreversibili. Il primo e più scontato effetto negativo della plastica sull'ambiente risiede nella sua produzione, in particolare quella del PET, il più popolare tipo di plastica usato per le bottiglie d'acqua e delle bibite. Il PET è infatti un derivato del petrolio, risorsa che sappiamo essere dannosa per l'ambiente, per il clima e per la società, causa di guerre e crisi economiche, nonché una fonte non rinnovabile di energia. Per un chilogrammo di PET, utili per produrre 25 bottiglie da un litro e mezzo, ci vogliono 2 kg di petrolio e 17 litri di acqua, altra risorsa sfruttata sopra la soglia della sostenibilità. In media, una famiglia di tre persone consuma questa quantità di acqua in una settimana. Lascio a voi immaginare quanto petrolio viene utilizzato in tutto il pianeta solo per le bottiglie d'acqua. Coca-Cola ha da poco rivelato quante bottiglie della nota bibita produce. 128 miliardi solo in un anno. Il secondo e forse più visibile effetto negativo è l'inquinamento delle acque. Nel 1950, quando la plastica ha iniziato ad avere successo, ne sono state prodotte 2 milioni di tonnellate. Nel 1993 il numero è salito a 147 milioni e nel 2005 407 milioni di tonnellate. Quindi, dalla fine dell'Ottocento, le tonnellate di plastica prodotte sono 8,3 miliardi, delle quali 6,3 miliardi sono già rifiuti e 5,7 miliardi non sono stati riciclati. Di questa plastica, 12 milioni di tonnellate finisce in mare. Se i primi coloni dell'America del Nord, nel lontano 1500, avessero gettato nel mare degli oggetti di plastica, come spesso facciamo noi, oggi troveremmo ancora dei residui di quegli stessi oggetti. La plastica, infatti, per decomporsi impiega dai 450 anni a mai. Nel 2010 è stato rilevato che metà dei rifiuti plastici smaltiti male provenivano soltanto da 5 paesi dell'Asia, Cina, Indonesia, Filippine, Vietnam, Sri Lanka. La capitale filippina Manila è attraversata dal fiume Pazig, un tempo fonte di acqua pulita, di ristoro dall'afa e di piacere per gli occhi. Quel fiume, che fino a pochi decenni fa era l'orgoglio della città, oggi è considerato biologicamente morto, a causa della quantità di plastica presente nell'acqua e sulle spiagge. Alcuni dei suoi piccoli affluenti sono talmente pieni di plastica che le persone possono passare da una parte all'altra del fiume senza utilizzare i ponti. Ma perché molti paesi asiatici sono invasi dalla plastica? Questioni sociali, politiche ed economiche causano questo problema. A Manila il riciclo dei rifiuti è gestito da 17 autorità locali diverse, il che crea caos e inefficienza. I governi sono instabili o poco interessati a un problema che sembra non essere vitale per una popolazione che fatica a trovare i beni di prima necessità, come l'acqua potabile, il che naturalmente incentiva l'uso e la produzione di bottigliette di plastica che, insieme ad altri rifiuti non correttamente smaltiti, contaminano le acque, provocando malattie, povertà, disordini sociali. Il caso di Manila e del fiume di Scarica sembra essere estremo. Ma pensiamo che una delle spiagge più incontaminate dell'isola Hawaii, nell'omonimo arcipelago, alla quale è possibile accedere solo tramite passaggio pedonale, è composta dal 15% di plastica. Le spiagge italiane, molto turistiche e frequentate, raggiungono un preoccupante 46%. Anche nei nostri mari, infatti, non è raro trovare bottiglie, sacchetti e pezzi di plastica abbandonati, che diventeranno trappole mortali per moltissime specie. Le tartarughe marine, per esempio, per la loro conformazione, rimangono facilmente incastrate nelle reti da pesca, con il rischio di non riuscire più a risalire in superficie per respirare, come questa trovata a largo della Spagna. Oppure possono essere strozzate dagli anelli delle confezioni di lattine. Uno strazante video postato su YouTube mostra un biologo che tenta di estrarre una cannuccia di plastica dalla narice di una tartaruga marina con le pinzette. La tartaruga si dibatte per il dolore e sanguina copiosamente. Anche sacchetti di plastica sono spesso fatali, in quanto sono scambiati per meduse e quindi ingeriti da chi se ne nutre, che poi morirà per soffocamento. Anche le acciughe mangiano la plastica accidentalmente, poiché, se ricoperta da alghe, ha lo stesso odore del cibo. Gli uccelli possono catturare la plastica che galleggia nel mare e portarla da mangiare i loro piccoli. Ingerire pezzi di plastica può provocare un senso di pesantezza e sazietà, che porterà alla denutrizione dell'animale, oltre che poter perforare l'intestino e condannarlo a morte certa. Insomma, tutte le caratteristiche che rendono la plastica un grande aiuto per l'uomo, come la durabilità e la leggerezza, sono invece la causa del malessere dei mari e dei cieli. La plastica può però danneggiare i mari e le persone in modo più subdolo, a causa degli additivi chimici con i quali essa è prodotta, e che sono così presenti nell'acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo, nei vestiti che indossiamo. Questi residui vengono rilasciati nell'aria non solo durante la produzione degli oggetti, ma anche durante il loro pieno utilizzo. Il lavaggio dei capi in poliestere, per esempio, rilascia moltissime di queste sostanze nell'acqua e nell'aria, così come le microfibre che si aggiungono ai milioni di particelle di plastica presenti nell'ambiente e, in particolare, nei nostri mari. Queste microsfere con il diametro che non supera i 5 mm sono chiamate microplastiche e si formano, oltre al lavaggio di indumenti, dalla degradazione di oggetti plastici più grandi per mezzo del sole, delle onde del mare o dall'azione di piccoli crostacei che li frantumano, ma sono anche spesso contenuti nei cosmetici, come gli scrub e dentifrici. Queste microplastiche, oltre ad entrare nella catena alimentare umana, per esempio nelle stelle da cucina o semplicemente ingerendo accidentalmente dell'acqua di mare, danneggiano soprattutto gli animali marini, compromettendo l'intero ecosistema. Ingerire microplastiche provoca infatti un'inarrestabile cronica fame. È stato anche confermato che gli organismi che ingeriscono plastica sono meno fertili e più portati a sviluppare patologie. Non è ancora stato accertato invece che le microplastiche ingerite dai pesci possano compromettere la loro carne, che poi finisce sulle nostre tavole. Si può solo ipotizzare che alcune microplastiche, con il passare del tempo, si sminuzzino così tanto da diventare quasi invisibili e riuscire così a filtrare anche attraverso i tessuti. E quindi, appunto, nella carne che mangiamo. Secondo un report realizzato dalla Fondazione Ellen MacArthur, nel 2050 ci sarà più plastica che pesci negli oceani. Evitare che questo accada non è facile, ma ci si può provare. La più immediata soluzione è, oltre alla raccolta della plastica in mare, anche quella sulle spiagge, da parte di organizzazioni oppure da singoli. L'anno scorso la Break Free From Plastic ha pulito la spiaggia di Freedom Island, a Manila, dalla quale sono stati raccolti 54.260 oggetti. Qualche settimana dopo era ancora piena di bottiglie, incarti e sacchetti. Armando Siena, 34 anni, fa parte dell'industria del riciclaggio non ufficiale di Manila. Lui vive con la moglie e i tre figli in una baracca in una stanza sola, sprovvissa di tutto, illuminata da una lampadina e arredata con un paio di sedie di plastica. Ogni giorno Siena si spinge oltre i confini di Roma, la baraccopoli piena di immondizia dove vive, con una bicicletta sgangherata a cui ha fissato una sorta di carretto e perlustra le strade alla ricerca di rifiuti riciclabili. I contenitori di plastica per alimenti vengono pagati 20 pesos, 31 centesimi, al chilo. Questi vengono poi comprati dalle multinazionali a prezzi maggiori, che poi mettono sul mercato i loro prodotti riciclati, etichettati come socialmente responsabili. I raccoglitori di rifiuti come Siena potrebbero essere una soluzione, ma dovrebbero lavorare con un salario fisso e delle assicurazioni. Sigler, un economista del Vermont, è scettico riguardo a questo tipo di progetti e dice che costerebbe meno finanziare un sistema di gestione dei rifiuti piuttosto che sovvenzionare la raccolta della plastica. Un altro importante progetto è quello di Boyan Slat, un ragazzo olandese di 23 anni che porta avanti l'impegno preso da adolescente di ripulire la più grande isola spazzatura del Pacifico settentrionale. Con il suo progetto Ocean Cleanup ha già raccolto 30 milioni di dollari per costruire un'apposita spazzatrice. Altri provvedimenti meno immediati ma che guardano al futuro sono stati presi dalle grandi aziende, anche grazie alle pressioni dell'opinione pubblica. La Coca-Cola, per esempio, si è posta l'obiettivo di raccogliere e riciclare il 100% dei suoi imballaggi entro il 2030 e, insieme ad altre aziende come PepsiCo, Walmart, L'Oreal, Evian, ha garantito che entro il 2025 adotterà imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili. La Johnson & Johnson userà la carta e non più la plastica per i suoi cotton fioc. L'economista Sigler ha proposto che le industrie semplicemente contribuiscano alle spese imponendo una tassa di 2 centesimi di dollaro per ogni chilo di resina plastica prodotta. In questo modo si ricaverebbero 6 miliardi di dollari in un anno che potrebbero essere investiti in una migliore raccolta dei rifiuti nei paesi in via di sviluppo. L'idea, però, non ha ancora avuto consensi. Per quanto riguarda progetti ancora più grandi, il Kenya si è unito al crescente numero di paesi che hanno bandito l'uso dei sacchetti di plastica e la Francia ha dichiarato di voler proibire l'uso di piatti bicchieri di plastica entro il 2020. Gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e altri quattro paesi hanno vietato le microsfere nei cosmetici. Agire alla base del problema, però, è vitale. Questo si può fare diminuendo la produzione di plastica tramite nuovi materiali come le bioplastiche, prodotte con fibre naturali e completamente biodegradabili. In quello che in Italia è stato a lungo uno dei luoghi simbolo dell'inquinamento, ora sorge lo stabilimento di Matrica, un'azienda di bioplastiche nata dall'unione di Novamont e Novaris Eni. Queste bioplastiche, come il Mater B, sono di origine vegetale. Uno dei suoi ingredienti principali è il cardo, coltivato in Sardegna. Gli oggetti ricavati da questa bioplastica, principalmente piatti, posate e bicchieri serviti in 600 strutture di Milano e ristorazione, possono tranquillamente essere gettati nella raccolta dei rifiuti umidi. L'Umbra Policart, invece, realizza etichette biodegradabili per cibi, risolvendo quello che rischiava di essere un grave problema di contaminazione e della raccolta dei rifiuti organici. Mosaico Digitale, un'azienda pugliese, realizza mosaici e piastrelle, utilizzando una bioresina biodegradabile ottenuta dalla trasformazione di scarti vegetali. Grazie a queste e molte altre innovazioni, l'Italia si aggiudica il secondo posto in Europa per fatturato e occupazione nel settore dello sviluppo di prodotti biodegradabili, come microplastiche e tessuti. E Milano è la città europea con la più alta percentuale di raccolta differenziata, con oltre il 50%. Un grande aiuto è derivato dalle plastiche compostabili, che permettono di raccogliere il doppio degli scarti organici di qualunque altra città in Europa. Bisognerebbe però anche istruire i consumatori sul significato di alcuni termini. Credere che l'oggetto in bioplastica, una volta abbandonato in strada o semplicemente buttandolo in mezzo all'altra spazzatura, sparisca nel nulla, è fortemente sbagliato e potrebbe incoraggiare l'abbandono improprio dei rifiuti. Infatti, le bioplastiche possono metterci anche due anni a decomporsi, oltre il fatto che l'ambiente buio e senza ossigeno delle discariche, così come l'acqua fredda del mare, potrebbero rallentarne o addirittura arrestarne la decomposizione. Per questo c'è chi studia nuove soluzioni. Nel New Materials Institute in Georgia, stanno sperimentando l'uso di polimeri sintetizzati da microbi per realizzare imballaggi, rapidamente compostabili anche in mare. L'azienda britannica PoliMateria sta sviluppando additivi chimici che possano velocizzare la biodegradazione di qualsiasi materia plastica, sia organica che sintetica. Il docente di ingegneria Ramani Narayan afferma che l'approccio più responsabile al problema della plastica sarebbe quello dell'economia circolare, in altre parole del riciclo, una soluzione che la Norvegia ha dimostrato essere molto efficace. La Norvegia, infatti, ricicla il 97% delle bottiglie di plastica sul mercato, grazie ai raccoglitori automatici presenti nei supermercati, in cui si lasciano i vuoti e si ottiene il rimborso. Certamente la soluzione più efficace sarebbe quella di arrestare totalmente la produzione, disincentivandone quindi l'acquisto da parte dei consumatori. Attivisti, artisti, leader politici cercano ogni giorno di sensibilizzare al problema, con la speranza, in primis, di superare la cultura dell'usa e getta. La fotografa inglese Mandy Barker ha raccolto rifiuti di plastica trovati su una spiaggia britannica, di cui nessuno sembrava stupirsi, e li ha fotografati su uno sfondo neutro, rendendoli così di nuovo sconvolgenti. In un altro suo lavoro ha fotografato tutti i frammenti di plastica trovati nello stomaco di un pulcino o di un albatro. I frammenti che lo hanno ucciso sono parte di oggetti che ognuno di noi può avere utilizzato, dice la fotografa. Il movimento Zero Waste è attivo fin dagli anni 90 contro l'utilizzo della plastica usa e getta. Nel Regno Unito, la Chiesa d'Inghilterra ha chiesto ai fedeli di rinunciare agli imballaggi e agli oggetti di plastica usa e getta per la quaresima di quest'anno. Il primo ministro conservatore, Teresa May, ha proposto che i supermercati dispongano di reparti senza plastica in cui si vendano solo alimenti sfusi. La Cina, infine, dopo aver acquistato circa metà della plastica riciclabile del pianeta per quasi tre anni, ora ha deciso di chiudere la maggior parte delle importazioni di scarti di plastica, così che si accumulino nei paesi d'origine e il problema si è risolto a monte.